Si allarga la giunta nel comune di Castel di Lucio. Il sindaco Vippo Nobile ha infatti nominato il quarto assessore e la giovane Maria Grazia Campo, laureata in Economia e Commercio e dipendente amministrativa di un'azienda locale. Il nuovo assessore ha accolto l'incarico con entusiasmo al fine di dare un contributo fattivo per portare avanti il programma politico dell'amministrazione ponendo le proprie competenze al servizio della comunità. La nomina è scaturita a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ex assessore Maria Iudicello e andrà a completare l'esecutivo così composto già da Giuseppe Franco, Antonio Di Francesca e Graziella Sacco. Alla giovane Maria Grazia Campo andranno le deleghe importanti quali il bilancio e l'agricoltura. Ringrazio il sindaco Nobile per la fiducia, l'amministrazione comunale e i consiglieri per avermi sostenuta in questa gravosa scelta, dichiara il neossessore, consapevole delle difficoltà di questo momento storico, metterò in campo tutte le mie forze, il mio impegno e le mie capacità per offrire al mio amato paese la voce dei suoi cittadini. Auguro buon lavoro al nuovo assessore, afferma il primo cittadino Pippo Nobile, che conosco da tempo, conosco il suo attaccamento al territorio e il suo dinamismo. Sono certo che saprà svolgere con impegno e competenza l'incarico conferito.